Bella a tutti raga, io sono Toukens, bentornati sul mio canale e bentornati con il classico appuntamento settimanale per quanto riguarda le sfide del pass battaglia di Fortnite. Oggi sono uscite le sfide della settimana 9, andiamole quindi a vedere. Tra queste come sempre c'è l'infliggere danni agli avversari, questa volta dovremo utilizzare delle armi esplosive, il cercare come sempre dei forziere a potrido pantano, l'utilizzo di un cangallo della spesa, il visitare il centro di luoghi indicati in una partita singola, quindi potete farlo in singolo in coppia appunto o anche a squadra, basta che le visitate in una partita singola, il trovare la stella seguendo la mappa che è possibile appunto trovarla a montagnole maledette, l'eliminazione con i fucili pesanti e l'eliminazione dei nemici ad armi anarchici. Da come avete potuto leggere dal titolo, in questo video ci andremo ad occupare del dove trovare la stella. Come detto quindi la mappa potrete trovarla a montagnole maledette, però per trovare la stella dovrete recarvi un pochino più vicino che è il crocivina del ciaffame. Una volta lì vicino come sempre vi si aprirà l'ombrello e voi dovrete atterrare precisamente sopra questa pila di macchine. Una volta atterrati vi comparirà la stella, dovrete prenderla e dovrete finire la partita, mi raccomando non quittatela perché se no non vi conterà la sfida. Come sempre spero che questo video vi sia stato utile, lasciate tanti like tra i commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle sfide della settimana numero 9. Vi ricordo inoltre per chi di voi non avesse ancora sbloccato l'ombre, anche è possibile trovare sotto in descrizione tutti i link delle relative emissioni delle settimane passate. Condividete il video per aiutare la community e iscrivetevi al canale per non perdere le sfide della settimana numero 10. Come sempre vi ringrazio la visione e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!